Belen e Iannone Belen e Iannone, è arrivata la proposta di matrimonio per la Rodriguez, il gossip Belen e Iannone, l'amore viaggia a ve le spiegate, il pilota l'ha chiesta in moglie, la soffiata. . Pochi giorni fa vi abbiamo parlato della voglia di maternità di Belen, che ha confermato di voler ancora due figli, dopo Santiago, il bimbo avuto da Stefano De Martino. Oggi vi parliamo di un altro affare familiare, il matrimonio. . Naturalmente l'altro protagonista della storia è Andrea Iannone, il centauro della Suzuki che tra sali e scendi sentimentali continua a veleggiare insieme alla Rodriguez sui lidi dell'amore. . A oggi, le crisi vere o presunte sono acqua passata, tanto che i due starebbero pensando seriamente di salire all'altare. . A dir la verità, Alberto Dandolo, per oggi, svela che ci sarebbe qualcosa di molto più concreto di un pensiero, una proposta. Andiamo a scoprire tutto. . Iannone e Belen pronti al matrimonio? La proposta del pilota, l'indiscrezione. . Iannone e Belen, arrivano le nozze e un bebè? A breve, pare proprio di sì. Affidandoci al sempre informato Alberto Dandolo, i due starebbero prendendo decisioni assai importanti sul loro futuro sentimentale. . . A Milano si mormora addirittura che la showgirl argentina voglia al più presto dare al piccolo Santiago un fratellino e che stia pensando seriamente di mettere su famiglia con il suo Andrea scrive Dandolo, su oggi, che aggiunge. . . Sembra anche che quest'ultimo l'abbia recentemente chiesta in moglie. . D'altra parte l'indiscrezione non è un fulmine a ciel sereno, se si considera che la showgirl argentina ha più volte ribadito di volere altri figli, senza mai chiudere le porte a un futuro matrimonio. . . Rodriguez e Iannone, ecco perché il matrimonio si avvicina sempre più. La Rodriguez e Andrea stanno vivendo un periodo sereno. Entrambi, nelle ultime dichiarazioni rilasciate alla stampa o dai profili social, hanno confermato di essere molto innamorati. . . . Inoltre, Belen, a riguardo dei figli, ha chiusato così qualche giorno fa sul suo profilo Instagram, i figli sono la cosa più bella di questo mondo. Ne vorrei altri due. . . Insomma, se la passione cè, e cè pure la voglia di maternità, che cosa altro manca? Pare proprio nulla. Il matrimonio tra l'Argentina e il pilota dunque s'avvicina. In bocca al lupo e due piccioncini. . 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